Un saluto a tutti, siamo qui con Paolo Martini, amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding, che ci è venuto a trovare nei nostri studi televisivi di Via Melchiore Gioia a Milano, è venuto a raccontarci una iniziativa importante che il gruppo Azimut il 29 e il 30 ottobre ha organizzato presso il polo fieristico di Ro Pero qui a Milano. Ecco Paolo, vogliamo spiegare ai nostri utenti e telespettatori di che cosa si tratta. Buongiorno a tutti, uno dei progetti strategici del gruppo Azimut dei prossimi anni, come abbiamo comunicato anche alla stampa e agli analisti qualche tempo fa. Nei prossimi giorni ci sarà il corollario di un durissimo lavoro, iniziato addirittura con l'idea embrionale 5 anni fa, con l'idea di costruire un ponte fra coloro i quali risparmiano, che oggi si trovano in momento difficile perché con questo contesto nuovo di tasti a zero, quindi c'è una nuova normalità che non siamo abituati ad affrontare e da una parte, dall'altra parte invece ci sono le PMI, le imprese italiane che chiedono capitali. C'è un momento in cui ovviamente il settore bancario per mille motivi che conosciamo è un po' meno concentrato su questo aspetto, quindi c'è veramente bisogno di costruire un ponte, di spostare gli asset che sono oggi in investimenti improduttivi, basti pensare ai 1300 miliardi da parte delle persone normali che sono oggi sul conto corrente, che ahimè renderà zero, addirittura col segno meno, come abbiamo visto in qualche intervista anche recentemente, come già capita nei paesi nordici o alla stessa Svizzera dove già da tempo tu paghi per tenere i soldi sul conto corrente, quindi un mondo nuovo, o le stesse imprese dove ci sono circa 350 miliardi di liquidità che anche queste sono improduttive, quindi spostare queste masse verso l'economia reale, l'economia vera, quella di tutti i giorni, l'economia concreta, quella fatta dalle PMI che comunque oggi rappresentano l'80% dell'occupazione in Italia, se si riesce a creare questo ponte si ha un duplice vantaggio, quello di dare rendimenti interessanti per i prossimi anni ai nostri clienti e quello di aiutare le imprese italiane in un momento in cui c'è anche bisogno di un po' di ottimismo perché sappiamo che il nostro paese non sta attraversando un momento così facile. Ecco, l'evento si chiama Aliexpo, se non sbaglio, si svolge appunto come ho già detto il 29 e il 30 ottobre, qualche idea su cosa trovano i visitatori, i numeri di conferenze, ospiti, partecipanti e anche iscritti? Sì, abbiamo lavorato un anno per organizzare questo evento che se non erro, se le cose andranno come immagino, sarà uno degli eventi più grandi mai fatti da una realtà privata in Italia. si chiama Azimo di Prempesa Expo perché avrà una serie di caratteristiche particolari. La prima, ci sono circa 60 conferenze, più di 250 speakers dall'Italia e dai vari paesi del mondo, quindi con una mole di comunicazione e di contenuti molto molto alta. Le persone potranno scegliere quali sono le conferenze che sono più interessanti fra quattro principali temi, da quello più di natura macro, a quello più sui servizi del private equity, del venture capital, del private equity, diciamo del private market nella sua completezza, a quello più legato ai prodotti, a quello più sulla tecnologia. La tecnologia oggi sta cambiando il nostro modo di vivere, abbiamo visto quanto ci sono delle innovazioni che hanno stravolto, vecchie consuetudini e quindi anche questo canale avrà un approfondimento importante. E poi c'è l'Expo, come dice il nome, al di là delle conferenze, la due giorni si potrà vivere fuori dalle 60 conferenze. C'è un'area che si chiama la Startup Village, con tutto il mondo del venture capital, tutto il mondo delle start-up concentrato, con una serie di servizi che diamo alle start-up, di mentor, di persone che possono anche aiutarti se hai un'idea a svilupparla in un certo modo. Ci sarà l'area dei servizi alle imprese, abbiamo costituito un'area dove chi passeggia attraverso quei particolari luoghi può trovare un'idea per un brand, per un logo, una brand reputation, può farsi fare uno studio sulla sua azienda, può trovare degli strumenti che lo aiutano a capire il posizionamento della sua società rispetto ai suoi competitor. Abbiamo poi l'area dei nostri partner, l'Azioni di Empresa Expo ha almeno una trentina di partner, da quelli istituzionali, che sono il Sole 24 Ore, il MIP, Borsa Italiana Elite, Feder Manager, la stessa Cristis, a una serie di partner strategici che hanno tutti il filo conduttore di dare servizi concreti alle nostre aziende. E poi c'è la parte dell'arte, abbiamo una mostra di Cristis importante, ci sono una serie di artisti che costituiranno, faranno delle opere sul posto, basti pensare che questo connubio, l'arte di fare impresa, che è un po' il filo conduttore di queste due giorni, vedrà in ogni singola conferenza una persona che costituirà, farà uno scribe, quindi un disegno legato al contenuto di quella conferenza, in modo che alla fine avremo una sessantina di schizzi che ovviamente ricordano che cosa è stata in queste due giorni. Mi chiedevi quanti sono i partecipanti, devo dire che abbiamo avuto una percentuale di adesioni altissime, non pensavamo nemmeno noi che ci fosse un interesse così alto, poi se vuoi ti dico perché secondo me si è creato questo connubio particolare, ad oggi ci sono iscritti circa 18 mila persone, tra imprenditori, la sta grande maggioranza, professionisti, abbiamo oltre mille studi professionali associati, investitori e ovviamente consulenti finanziari, perché anche per loro si tratta di una evoluzione della loro professione, una consulenza 2.0 o 3.0 in cui avremo a disposizione delle armi nuove, importanti, anche perché dietro a tutto questo c'è una forte innovazione. Anticipavi anche la mia domanda conclusiva, ti chiedo perché c'è questo interesse per il mondo dell'economia reale per le piccole e medie imprese italiane e per le imprese in fase di crescita e soprattutto perché voi state guardando a questo mondo già da un po' di mesi e anni con sempre maggiore interesse, voi come gruppo Azimut? Guardiamo con forte interesse a questo mondo perché pensiamo che sia una delle leve future più importanti per dare rendimenti ai nostri clienti, questa è la cosa più importante, viviamo appunto in questo nuovo mondo a tassi zero, sappiamo che il 40% dei bond in giro sono a interesse negativo e questo la dice lunga, siccome questa nuova realtà di oggi non sia secondo me ancora stata capita e percepita da tutti quanti. Dall'altra parte quindi c'è anche bisogno di aiutare i nostri clienti ad avere un'ottica di medio-lungo periodo e anche questo è un aspetto importante, abbiamo visto e me come spesso i comportamenti di breve periodo fanno fare scelte sbagliate, la finanza comportamentale insegna che si vende sempre quando bisogna comprare e si compra quando bisognerebbe vendere, questo lo sappiamo bene e poi c'è un altro tema importante che parlando di economia reale, parlando di imprese, si vedono un po' meno grafici Bloomberg e si tocca un po' più con mano quello che è il tessuto imprenditoriale italiano. Dall'altro lato siamo convinti che ci sia veramente una grossa opportunità per sostenere le imprese che hanno bisogno oggi di accesso al capitale diverso, che non sia il canale bancario, che come abbiamo detto prima nell'ultimo periodo si è concentrato su fare anche altre cose e che quindi ci sia veramente l'opportunità di accompagnare queste aziende spesso fatte anche di persone giovani ma non solo, noi abbiamo già ad oggi per esempio, vi do qualche numero, gestito circa 600 milioni di euro e aiutato 250 aziende in questi anni. Ora abbiamo comunicato al mercato, vogliamo fare questa attività al quadrato, al cubo, i nostri obiettivi sono quelli di creare almeno 50 mila posti di lavoro nei prossimi anni, aiutare 500 aziende e abbiamo fatto anche una forte innovazione che è quella della democratizzazione di questa asset class. Per primi al mondo siamo riusciti nell'intento di far sì che questi prodotti legati all'economia reale, quindi private equity inizialmente ma tra poco anche venture capital, private debt e altri prodotti di questo tipo siano accessibili con un investimento di 5 mila euro. Quindi si tratta proprio di una vera asset class nuova che oggi mancava, che tra le altre cose sostiene anche il sistema paese Italia. Siamo fermamente convinti che sul mercato ci sarà una crescita nei prossimi anni di questi strumenti e siamo anche orgogliosi di essere stati i primi anche perché noi siamo imprenditori, parliamo con imprenditori e quindi probabilmente come Azemut abbiamo un'assonanza cognitiva molto più vicina al mondo degli imprenditori, che intanto rappresenta circa il 40% della nostra clientela rispetto magari alle grosse banche che hanno una catena molto molto più ampia. Bene, allora ringraziamo Paolo Martini, amministratore delegato e direttore generale di Azemut Holding per essere stato con noi. Grazie Paolo. Grazie. E vi ricordo Aliexpo il 29 e 30 ottobre a Milano presso il polo fieristico di Ropero. Grazie a tutti. Grazie e come ci piace dire vi aspettiamo lì e sono convinto che troverete un mondo nuovo molto interessante per tutti.